Abbiamo fatto un sopralluogo con i sindaci, il presidente della comunità di Valle, i dirigenti, le aziende interessate e l'obiettivo è quello di riaprire a senso unico alternato da lunedì prossimo la galleria. Il senso unico alternato sarà per tutto il giorno, dalle 6 la mattina alle 10 la sera, per poi essere chiuso durante la notte perché i lavori continueranno durante la notte, quindi l'impresa lavorerà H24. Nel frattempo comunque da qui a lunedì continuano i servizi messi a disposizione e quindi gli autobus sostitutivi dalla Val di Ledro per gli altri territori. L'obiettivo è quello di arrivare all'ordinarietà entro la fine dell'anno, quindi il senso unico alternato si protrarrà per tutto il mese di novembre e per il mese di dicembre con l'obiettivo di chiudere la fase straordinaria entro la fine dell'anno. Dopodiché la galleria sarà in sicurezza, è un lavoro complesso, è un lavoro anche dove serve la giusta precauzione e la giusta garanzia sia per chi lavora e per chi percorrerà poi la galleria.